Oggetti in vetro e kintsu glu. Sono tornata dal Giappone completamente innamorata e il Giappone poi è venuto a me perché quando ero lì ho visto delle ciotole restaurate però in un modo diverso da quello occidentale. Lì il restauro era apparente, nella colla o nell'amalgama che avevano utilizzato era stata mischiata della polvere d'oro e quindi queste ciotole erano come rinate in qualche modo con tutte le loro venature, con tutti i loro pezzi mancanti ricostruiti. Questo modo di restaurare in cui le giunture si vedono si chiama kintsu ji. Sono tornata a Roma e indovinate cosa ho scoperto? La kintsu glu, cioè proprio era un destino. È una pasta modellabile che riesce ad incollare, io a casa non vi posso dire, ci ho incollato di tutto e nella fattispecie del vetro, quindi ho trovato tutti i pezzettini di vetro e ho creato dei portacandele. Tutto l'occorrente lo trovate qui sotto o sul blog. Potete fare la stessa cosa che sto facendo io adesso con oggetti che avete già in casa, magari un bicchiere spaiato o una ciotolina che ha perso il suo piattino. Se poi vi interessa approfondire il concetto del wabi-sabi, trovate l'articolo sul blog. Ve la faccio vedere perché è abbastanza interessante. Sono dei pacchettini singoli da 5 grammi ed è proprio una pasta. Sono dei tocchettini così. Infilerò i guanti, così poi mi rimangono le mani pulite e la dovete lavorare per 15 secondi. Naturalmente, prima di iniziare la vostra avventura nella costruzione dei candelabri, dovete fare delle prove, cosa che io ho già fatto. Questi, per esempio, sono quei paralumi che erano sui lampadari con tante braccia. Magari se ne erano rotti 4, io ne ho trovati soltanto 2, e quindi se andate nei mercatini o nelle cantine o nei cassetti dove uno poi accumula tantissime cose, sono sicura che riuscirete a trovare tanti oggetti e tutti assemblabili. Quindi la mia idea è stata questa. Una cosa del genere. Questo era un piattino sotto una scodellina. La Kinzu Glue si, diciamo, indurisce in 24 ore. Quindi in realtà non potete fare tutto il lume insieme. Dovete fare un pezzo, perché se io adesso attacco questo, deve solidificarsi. Non posso attaccare subito questo sopra perché ho paura che poi non rega. Io ho lavorato così, facendo due pezzi e poi altri due pezzi e poi altri due pezzi e poi ponendo tutto insieme. Un'altra cosa fantastica è che si può tagliare. Cioè io avevo fatto come dei salamini, li avevo messi tutti intorno così. Poi ho spinto l'oggetto sopra, la colla ovviamente è uscita. Un po' l'ho rimodellata con le spatoline, ma non è venuto perfetto. Una volta asciutta, però, siccome mantiene una consistenza gommosa, molto tranquillamente si taglia con il taglierino. Contrariamente a quello che avrei fatto in un altro caso, qui la lascio proprio bene a vista e anzi creo una specie di striscia, di riga, che è appunto quello che vi dicevo, il principio del kinsuji. Cioè io, il fatto di incollare questi due pezzi, voglio che si veda. Questo è un pezzo che ho già preparato ed è asciutto. Vi faccio vedere com'è semplice rifilarlo con il taglierino. Potete giocare tantissimo facendo questi candelabri perché nessun pezzo sarà uguale all'altro. Dipende che cosa trovate. Per il primo che ho fatto, ho utilizzato una livella per essere ben sicura che fosse dritto. Non so per quale incredibile motivo è venuto storto, quindi alla fine ho preferito non utilizzarla e guardare a occhio, perché tanto più o meno si vede. Perché il problema è che, essendo delle forme non perfettamente incastrabili, si muovono leggermente. Quindi io spostavo l'oggetto a secondo di come mi diceva la bolla della livella e alla fine non so perché, non è venuto bene. E quindi ho preferito farla a occhio. Allora, qua di nuovo utilizzo la spatolina. Se ci sono delle sbaffature come queste, se le vedete le togliete naturalmente, ma se ve ne accorgete in un secondo momento si taglia e si toglie con il taglierino. Potrei sia lasciarlo così e mettere sopra un cero, oppure utilizzare questi bellissimi bicchierini che ho trovato e che sono quasi irresistibili e che quindi utilizzerò. Attaccandone uno qua sopra, che diventerà poi il posto dove metto la candela. A questo punto devo lasciare asciugare e poi, dove serve, posso rifilare un pochino con il taglierino. Una volta che la kintsuglou è asciutta, la potete rifilare così, oppure per esempio se decidete di fare un bordino più sottile la potete tranquillamente tagliare. Cioè è veramente, veramente, veramente maneggevole. Una volta che siete contenti con il vostro elemento decorativo, non vi resta che dipingerlo. Io ho deciso di dipingerlo in oro come omaggio al Giappone, ovviamente. Oro acrilico, li ho mischiati perché uno era troppo rosso e l'altro era troppo giallo. E poi, con il vostro pennellino, dipingete. Naturalmente la stessa cosa si può fare con la porcellana o con la ceramica, potete fare i vostri candelabri con quello che volete. Nel caso del vetro si vede un pochino la colla in trasparenza. In questo caso potete decidere di lasciare così, perché decidete che fa parte del vostro progetto. Potete decidere di allargare leggermente la pennellata e quindi di coprirlo con l'oro a pennello. Oppure, adesso vi faccio vedere cos'altro potete fare. Sempre a proposito dell'oro a pennello, questo è oro acrilico, ha bisogno di due mani, per forza. Se volete invece proprio coprire o diminuire la parte che appare in trasparenza, potete prendere un colore così, tridimensionale, e con questo fare o dei ghirigori o dei piccoli pois sulla parte che si vede in trasparenza. Anche questa pittura ci mette circa 24 ore ad asciugare, quindi poi la dovrete lasciare proprio super immobile, non la potrete più toccare, però la cosa bella è che rimane la tridimensionalità. Questo è un colore che esiste sia per stoffa normale, esiste per vetro. La caratteristica di questo colore è che come lo metti rimane, quindi se voi fate un tonno in rilievo o una riga in rilievo, rimane proprio effettivamente in rilievo. Questo è lui e adesso deve asciugare. Questi sono due dei candelabri che ho fatto. Il bello di queste composizioni è che sono tutte diverse, perché dipende da cosa riuscite a trovare, da quali prezzi e come riuscite ad assemblarli. Quindi ognuno è unico, mancano solo le candele. Ecco come fare! Se ti è piaciuto questo video tutorial, puoi continuare a seguirmi sul blog Come Fare con Barbara, puoi iscriverti al mio canale YouTube, oppure puoi guardare il prossimo video che ho scelto per te. Ecco come fare!